E' terminata la partita Under 21 tra Milano Calcio 5 e Fuzzo e Monza, che ha visto la vittoria degli ospiti del Monza, proprio noi Fabio, mentre vediamo il suo gol e gli altri, chiediamo lui un commento su questa partita. E' stata una partita molto difficile, gli avversari hanno si tirati bene inizio gara, infatti eravamo sotto, però come ha detto il mister non dobbiamo smettere di credere, anche perché il gruppo è formato, è ben consolidato, è anche abbastanza forte, quindi secondo tempo siamo entrati grintosi e siamo riusciti nel finale ad agguantarla e addirittura superare dei due gol. E' stata una bella partita. Grazie Fabio per la video intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te e forza Fuzzo e Monza! Ed ora siamo con un giocatore del Milano Calcio 5, qua con noi Luca Menti e vediamo i suoi due gol e gli altri, chiediamo lui un commento su questa gara. All'inizio siamo partiti in emergenza, eravamo in pochi, il primo tempo è andato bene, ci siamo portati con un discreto vantaggio, nel secondo tempo diciamo che dovevano soltanto amministrare la partita, fino a metà secondo tempo è andato tutto bene, poi due palle da fermo diciamo si sono portati, si sono avvicinati, arrivati al pareggio poi abbiamo mollato del tutto e gli avversari hanno portato a casa una vittoria. Grazie Luca per la video intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie di tutto, forza Milano!